eccoci qua siamo a giacarta questa è una tipica famiglia che sta mangiando salutiamo buon appetito qua abbiamo buon appetito ok no 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 thank you thank you mi offrono anche qualche cosa che faccio vedere siamo proprio in strada eccoci qua un po come vivono così qua e qui siamo in centro in mezzo alla spazzatura mezzo qui al centro oggi ho fatto un giro col treno e sono andato nelle zone satellite è incredibile pieno di topi che ratti che saltano fuori da tutte le parti bambini in ogni angolo bambini due tre anni dappertutto buttate lì di qui scalzi sporchi incredibile